Ciao a tutti, sono sempre il Greg e questo è il mio canale in genere horror. John and the Hole, produzione americana del 2021, diretta dal regista spagnolo Pasquale Sisto, arriva un po' in ritardo da noi ed è direttamente disponibile in streaming su Prime Video. È appunto la storia di John, un ragazzino di 13 anni a cui non manca nulla in teoria, ha la sua famiglia che gli vuole bene, padre, madre, la sorella maggiore, vivono in una bella casa con un ampio giardino, la piscina, lui ha una sua cameretta con un grandissimo schermo con cui può giocare alla console, il suo gioco preferito che è il tennis, lo fa in collegamento online con un suo amico, il tennis è anche lo sport che pratica anche dal vivo ed è infatti un piccolo tenista talentuoso che ha un suo allenatore personale che lo sta preparando delle qualificazioni importanti che dovrà affrontare da lì a poco. Insomma, sembra avere un po' tutto, gli affetti attorno a lui, lo sport, i giochi. Gli manca però la capacità di relazionarsi, è un po' un bambino, un ragazzino un po' particolare, ma è dovuto all'età, al momento di crescita. Infatti il film è molto incentrato sull'aspetto della crescita, sul passaggio dall'adolescenza a quello che dovrebbe essere poi più avanti l'età adulta. Cosa succede? Il ragazzino girando per il giardino che poi confina con un bosco lì vicino, trova un bunker, un buco in terra che è un vero e proprio bunker che era stato costruito dai proprietari precedenti e alla fine questa idea del bunker gli fa macinare in testa un piano che lo porterà poi a sedare i genitori e la sorella e a trascinarli, a buttarli dentro questo bunker. Apparentemente senza spiegazione, perché lì per lì nessuno lo sa, non lo sa la famiglia che cerca di capire cosa sta succedendo e non lo sappiamo nemmeno noi che stiamo guardando il film. L'unica cosa che viene in mente e che si riesce a capire è che la madre, con la madre aveva avuto un discorso del tipo che significa essere adulti, quando è che si diventa adulti, cosa significa esserlo, cosa comporta e questa sarà poi la chiave di lettura del film che andremo a analizzare fra un attimo. Questo è il film, nel senso che poi da lì ci sarà lui che porterà, quando si ricorda, porterà da mangiare e da bere alla famiglia che quindi sarà nella sporcizia, con poca acqua, con poco cibo e comincerà a soffrire perché i giorni passano. Lui non darà nessuna spiegazione e nel frattempo comincerà a vivere la sua vita indipendente da solo a casa come un adulto, comincerà a comprarsi da mangiare utilizzando il banco del padre, giocherà però, non proprio come un adulto, come un ragazzino indipendente perché continuerà a giocare in console con suo amico, prenderà la macchina del padre, anche se non patentato ovviamente, e andrà addirittura a prenderlo alla stazione e lo porterà a casa sua e giocheranno insieme tutta la giornata, insomma cominceranno a fare giochi rischiosi anche da ragazzini, sfide particolari, insomma comincerà a vivere la sua vita in maniera molto indipendente ma sempre da ragazzino, quindi facendo delle cose un po' pericolose, un po' strane, continuerà ad andare a giocare a tennis, insomma cercherà di nascondere anche ai vicini e agli amici il fatto che i genitori siano stati intrappolati nel bunker. Oltre a questo c'è una storia della storia, nel senso che ci sarà un inframezzo in cui vedremo anche una ragazzina, circa coetanea, forse ha un anno in meno, 12 anni, Lily, che ha un dialogo particolare con la madre, la madre le racconterà una storia, insomma è una storia della storia che andremo ad analizzare più tardi, quindi oltre al film, alla trama principale, c'è anche un secondo avvenimento con una madre e una figlia che hanno dei dialoghi che avranno un significato durante il film. Mi fermo qui nel senso che fino a qui c'è la trama del film con anche la particolarità di un secondo personaggio che poi sarà, verrà fuori appunto la bambina, la ragazzina, che avrà poi un significato alla fine del film, e appunto ci sarà un epilogo che appunto poi non andrò a dire, almeno in questa prima parte del video. Un film che intanto è diretto molto bene, ha uno stile che può richiamare Haneke, può richiamare addirittura Lantimos, anche se non arriva secondo me ai livelli di Lantimos, perché quelli sono troppo alti, anzi indubbiamente non ci arriva, però diciamo che in alcuni momenti sembra di vedere un po' un film Lantimos. Forse la parte più debole è proprio quella in cui si vede la famiglia imprigionata nel bunker. Non è nemmeno neanche tanto curata, ma forse non è neanche la cosa più importante. La cosa importante è vedere poi il ragazzino che vive la sua indipendenza. Ecco il significato del dialogo che ha avuto con la madre, che significa essere adulti. e lui riesce ad ottenere questa indipendenza facendo però un atto abbastanza estremo, quello di buttare la sua famiglia, trascinarla in questo bunker e intrappolarli lì. E lui continuerà a vivere in maniera indipendente e scoprirà che cosa significa l'indipendenza, fino a quando si renderà conto che il suo, diciamo, non chiamiamolo esperimento, ma comunque la sua visione da adulto l'avrà soddisfatto. Diciamo, il film quindi funziona, funziona perché i personaggi girano bene, perché il ragazzino interpreta bene la sua parte, perché la regia è giusta, diciamo, ha dei punti di debolezza, come dicevo, nella parte del bunker, che dovrà essere la parte più horrorifica, thriller perlomeno del film, ma il film ha ben altro su cui andare a concentrarsi ed è proprio l'aspetto del ragazzino, del suo comportamento e del perché effettivamente abbiamo compiuto questo fatto. E poi c'è l'altro personaggio, Lili, una ragazzina che ha un dialogo con la madre, che anche lì si parlerà di indipendenza, ma in maniera diversa sarà costretta a diventare indipendente. Quindi uno lo sceglie e la ragazzina invece non lo sceglie. Ma il film è incentrato su questo, cioè è una storia di crescita, la crescita di due ragazzini, il maschio, il tredicenne, che sceglie e vuole diventare indipendente e compie un atto estremo come quello di rinchiudere la famiglia nel bunker, e la ragazzina che, non dico il perché, perché è un colpo di scena, ma si scoprirà che sarà invece lei costretta a diventare indipendente. Quindi una scelta e una non scelta, che probabilmente è anche specchio di una società che ancora maschilista dà la possibilità all'uomo di decidere e decidere anche il destino degli altri, e invece nel caso della donna anticipare gli eventi, perché lei mi sembra che abbia un anno in meno, addirittura ne abbia 12 e non 13, e diventare già adulta a quell'età perché è costretta dalle situazioni. Ecco, questo è il film, chiaramente è un sottogenere di quei thriller abbastanza torbidi e che fanno pensare, dove l'importanza non è il film horror o l'aspetto thriller horror in sé, ma il significato che gli si dà il film. E direi, potrei concludere questa parte, intanto consigliando il film, perché è ben fatto, fa pensare, ha il colpo di scena, ha un paio di colpi di scena che lasciano abbastanza esterefatti, che lascia tante domande, ma alcune risposte le dà, quelle principali, quelle appunto del momento della crescita e dell'indipendenza, un'indipendenza forzata, un'indipendenza voluta. E questa è un po' la chiave del film, ed è tutto quello che posso dire senza parlare nello specifico, facendo spoiler o spiegazioni del film. Adesso potrei cominciare una seconda parte di video dove magari andare un po' più nel dettaglio, parlare anche di qualche spoiler, quindi se non avete visto il film andate assolutamente a recuperarlo su Prime Video, guardatelo, poi tornate a vedere questa seconda parte. Dicevo, seconda parte di video, o perlomeno ultima parte di video, dove posso dire un qualcosa di più nel dettaglio. Abbiamo parlato di questa Lily che a un certo punto irrompe nel racconto, c'è uno stacco molto secco, dove vediamo questa ragazzina parlare con la madre. Sembra un dialogo che in apparenza non c'entri nulla con la storia, ma a un certo punto la madre dice ora ti racconto una storia. E la storia che le va a raccontare è la storia di John and the Hole. E quindi di lì comincia, viene proprio in sovraimpressione il titolo del film, che lo vediamo quindi a film che è già iniziato da parecchio. Scopriamo che John and the Hole è una storia nella storia, scopriamo che abbiamo il cinema nel cinema. E già questo è un piccolo colpo di scena, è molto bello e ben assestato. Poi il film continuerà con l'evolversi appunto della storia di John e lì cominceremo a capire che lui vuole cercare, ricercare la sua indipendenza appunto con questo atto estremo nel trascinare i genitori nel bunker. A un certo punto però una volta che avrà completato questo suo ciclo, questo suo momento di sperimentazione di vita adulta indipendente, farà calare una scala e tirerà fuori i suoi genitori, i quali come se nulla fosse tornano a casa, si lavano e si mettono a mangiare tutti insieme, riprendendo in maniera circolare l'inizio del film dove erano tutti a cena, tutti a pranzo insieme che mangiavano a tavola in silenzio e la stessa scena la si ha sul finale in chiusura del film dove tutti mangiano insieme ricomponendo la famiglia iniziale. Questo film chiaramente anche questa storia lascia molte domande ma tante risposte le dà, le dà appunto sulla chiave di un momento di crescita particolare e di crisi che potrebbe avere un tredicenne. Mentre la storia della storia cioè la bambina Lily e la madre si ritorna su quella situazione lì prima della fine del film e anche sul finale. Prima del finale del film dicevo si ritorna sulla madre e sulla figlia Lily dove a un certo punto bruscamente la madre dice me ne devo andare tu rimani qui ti lascio i soldi ormai sei grande la nonna mi ha partorito a 15 anni quindi tu ne hai 12 sei pronta per gestire tutto quanto. Anche lì noi gli spettatori rimaniamo scioccati perché è un colpo di scena abbastanza brusco lì per lì non ci rendiamo conto del significato di questa scelta di questa situazione tanto che sul finale del film dopo che vediamo l'inquadratura della cena della famiglia di John che mangiano tutti insieme la fine del film è proprio la bambina Lily che vaga per i boschi quasi ad avvicinarsi a quel luogo a quel luogo del bunker e ad avvicinarsi alla storia di John anche se probabilmente le due cose sono due cose parallele perché è una storia nella storia ma cosa sta a significare? va a riprendere quello che avevo già detto nella prima parte del video va a riprendere quello che è il significato profondo del film John sceglie di essere indipendente e lo fa con scelte estreme che le dono anche la libertà per esempio della sua famiglia perché li rinchiude nel bunker la piccola Lily è costretta da una scelta scelerata della madre che prende se ne scappa se ne va la abbandona in casa le dice questa è una casa in affitto hai soldi però per pagartela e te li devi gestire bene e costringe una ragazzina ad essere sola nel mondo però ad essere già adulta questa è la chiave di lettura che ho dato io ma il regista ha dichiarato anche in varie interviste che ha lasciato volutamente tanti interrogativi e tante domande perché lo spettatore possa guardare riguardare il film e vederci varie chiavi varie letture e varie risposte la risposta principale però è questa e la chiave di lettura principale del film probabilmente è proprio questa la crescita costretta di una ragazzina e la crescita voluta e anticipata di un ragazzino due momenti di maturazione diversi due momenti e due scelte completamente diverse una scelta e una non scelta comunque un colpo di scena ben assestato il primo quando vediamo la storia della storia con la madre di Lily che le racconta la storia di John and the Hall e il titolo del film la seconda quando effettivamente la ragazzina viene abbandonata e lì per lì rimaniamo scioccati perché non riusciamo a capire il nesso con la storia la storia ha un nesso complessivo e la scelta è abbastanza particolare perché è una scelta narrativa molto particolare quella di prendere una storia nella storia e di contrapporre i due ragazzini il ragazzino e la ragazzina contrapporre le loro scelte però ne dà un significato profondo e fa di questo film comunque un film molto interessante un thriller prima di tutto molto molto particolare con un dal clima torbido dal clima un po' anche teso se vogliamo come dicevo la parte più debole è quella del bunker ma la cosa la cosa principale è il significato che il film vuole dare a tutta la storia e da questo punto di vista il film funziona parecchio è un sottogeneo di film che a me piace particolarmente perché lascia pensare non spiega ti dà dei dettagli alla fine del film si rimane si rimane abbastanza bloccati a guardare i titoli di coda a pensare a quello che si è appena visto però ti fa pensare e ti fa ragionare e ti fa capire quello che in maniera molto profonda il film voleva comunicare lasciate i commenti perché ne vale la pena discutere di questo film potrebbe a qualcuno anche non piacere però se lo guardiamo come un semplice thriller è chiaro che non piacerà se lo guardiamo come un film però più profondo che ha dei significati che vuole dire qualcosa e che vuole lasciare anche delle domande a cui noi dobbiamo dare delle risposte allora il film colpirà nel segno e vi piacerà parecchio alla prossima e vi piacerà